alla base dei pasti che ci sono oggi ci sta l'agnellone che abbiamo praticamente utilizzato per creare dei fondi fondi fondo bruno praticamente abbiamo fatto anche una riduzione di vino rosso abbiamo preparato dei sughetti in un fondo di pomodoro e cappiri abbiamo creato anche praticamente un'insalata di carciofi e questo è un trifolato di carciofi abbiamo aggiunto il brodo abbiamo aggiunto gli ossobuchi dal tutto abbiamo ricavato questa insalata di cipolla carote e patate che si unirà alla insalata di carciofi crudi poi con gli stessi carciofi e con tutte le altre sostanze abbiamo creato questi bombolotti questi champignon ripieni di carciofi cappiri pangrattato parmigiano e questo trifolato di funghi che vediamo praticamente in questo brodo che è praticamente la preparazione per poter fare un bel risotto con midollo oppure abbiamo anche l'alternativa di fare filtrare praticamente questo brodo e fare una minestrina con o filindeo o con altre minestre speciali sarde e questo tutto quello che abbiamo preparato in questa fredda settimana che precede i giorni della merla ovvero sia fine gennaio